Non è che me la sono inventata, io ho letto quello che c'era scritto e c'era scritta così. Allora. Adesso mi viene a ridere anche a me poi perché effettivamente non me l'ha aspettato. Sigla sipario. Il buon Costanzo. Allora, questa è la pasta all'uovo fatta nella consueta maniera, io il sale nella pasta, non lo metto. Ciò che mi fa pensare è che questa ricetta non sia tua. Qua abbiamo il ripieno. Scusate, ma va così. Oggi la rizzi. Perché tu di solito nell'impasto metti farina, uovo e olio di semi, giusto? Sì. Non fare lo scemo, sì, è vero. Tu di solito metti così farina, uova e olio di semi. Eh, questa volta mi sono trovata farina, uovo e sale, che tu il sale proprio nella... Non ce la metti neanche nella pasta frolla perché se ce la metti nella pasta, giusto? Giusto. Allora, ho ragione io. Ho detto una ricetta. Mi chiedo questa ricetta. Ho salato la coda, la rizzi. Mettiamo anche il pepe. Che cos'è? Eh, quando brucia, brucia. Ti brucia il sale? Capito? Eh, c'è la coda di palia, non c'è niente da fare. A me non brucia niente. Quando lo scopri, lo scopri gli altarini? Ma cosa vuoi scoprire? Dai, dai, su, su, per segani. Rizzi, su là. Fai la brava, rizzi. Che io non vedo l'ora di andare su un lettino in spiaggia oggi. Ma, anche io non vedo andare a casa, mi fa male il piede. Mica poco, vale tanto. Allora, io ho messo l'albume nella ricotta. In spiaggia anche, non vedo l'ora. Quello intendevo io, nel lettino in spiaggia, mica nel lettino a casa. Prendere un po' di sole. Quindi sto mescolando la ricotta con l'albume e il sale e il pepe. Guardate che di pepe ne ho messo una bella macinata. Si vede, si vede. Ecco qua. Poi stendiamo la pasta. Io ho già l'acqua che bolle. Questa la spostiamo un attimo. Rizzi. Dimmi, dimmi. Dai, stendi la pasta. Che giornata. Stendiamo la pasta, dai. Te che sei pratica. Va così oggi, oggi va così. Pa, 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 pa. Schiaffeggiamo un po' questa. Guarda che la voglio sottile. Ah, sì? Sì. Eh, mamma mia quanto devo girare lì la manovella. Posso fare tutto in uno? Devo tagliarla a metà? No, falla tutto in uno ci passa questa. Però allarga bene il buco prima. L'ho fatto. Aspetta, vedi così? No. Dai. Allora, o giro. Te gira che io tengo. Eh. Al prossimo. Al prossimo. Al prossimo. Al prossimo. Grazie a tutti.